Il mese di agosto per la CISL Sicilia inizia con una campagna regionale hashtag presidiamo la sicurezza per discutere appunto dei rischi per i lavoratori di incidenti e morti sul lavoro ed in particolare si legge nel manifesto strategie di interventi azioni coordinate per tutelare la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori e così in tutte e nove le province dell'isola i rappresentanti del sindacato si sono dati appuntamento davanti le prefetture dalle ore 10 alle 12 così come ci spiega anche Giuseppe Pellegrino, segretario zonale CISL Gela. Oggi parte la nostra campagna che presidiamo la sicurezza lanciata dalla CISL perché è un problema molto sentito dalla nostra organizzazione sindacale ma noi chiediamo più sicurezza sul lavoro più rispetto delle regole più presidio della sicurezza e quindi più controlli perché se ci sono i controlli aumenta la sicurezza. Abbiamo chiesto un incontro col prefetto a cui consegneremo un documento dove è stilato il nostro pensiero che è il pensiero del segretario generale della CISL. Si faranno presidi su tutte le prefetture della provincia e infatti siamo qui noi presenti a Caltanissetta ma su altre prefetture ci sono altri presidi che stanno lanciando questa campagna sulla sicurezza. Chiederemo al prefetto di vigilare affinché vengono rispettate le norme nei cantieri, che vengono rispettate le norme sugli appalti e quindi si garantisca la sicurezza ai lavoratori perché non è corretto che una persona la mattina esce per andare a lavorare e non ritorna più a casa.